Una mattinata speciale al IC Rivarolo per Pape Sheriff Bail, campione di Marcellina e Genova Sport. Tantissimi studenti, oltre 360, tantissime domande per te. È stato come scendere sul tatami? Sì, è stato bello oggi connessare con questi studenti. Mi hanno fatto delle domande e poi li ho risposto. È un piacere ancora di incontrare con me questi studenti. L'anno scorso l'avevo fatto, quest'anno ancora l'ho fatto. Mi fa piacere, sono veramente gentilissimo. Hai sentito proprio il loro calore, la loro vicinanza anche nel momento in cui ti sono venuti a chiedere gli autografi, a fare le foto con te? Sì, ho sentito perché alla fine vengono a fare fotografie e poi sono contenti, sono vicini, veramente. È un piacere ancora per me, veramente. Quali sono state le domande più belle che ci sono state fatte? Le domande più belle sono quelle che mi dicono sempre, ma mi fanno ridere ancora. Quante volte hai fatto male sulle gare e mi chiedono ogni età come sei trovato qua in Italia, come dicevano sempre, il rassismo. Dico io, questa cosa veramente non mi è mai successa qua, veramente. E poi naturalmente anche attenzione al tuo percorso sportivo. Due titoli mondiali e un'olimpiade da inseguire. Sì, ho avuto due titoli mondiali e tanti altri, ma quelli importanti e i mondiali, ma siamo ancora puntando di andare avanti perché siamo lavorando per l'olimpiade del 2020. Stiamo cercando di fare dei punti per arrivare lì, vediamo cosa possiamo fare, ma proviamo. Che cosa significa per te un'olimpiade? Un'olimpiade è un sogno veramente perché è un sport, tutti quanti vogliono partecipare perché è veramente una storia bellissima, se ce la fai, ma ci vuole un po' di sponsor per fare le gare internazionali come le lighe o le serie A. Anche il 3 marzo devo andare a fare una in Germania tra 20 giorni. E qual è il messaggio che lasci a questi oltre 360 ragazzi che hai incontrato? Sì, a questi ragazzi che ho incontrato oggi, li consiglio di praticare il sport di karate perché è bello, ancora mi fa piacere molto, molto, molto di incontrare conogli. Salute, gli dico in grazia ancora. L'incontro è stato molto interessante, non è la prima esperienza che viene realizzata con Stelle nello Sport nel nostro istituto, è già il terzo anno ed è un evento che noi attendiamo sempre con molto interesse, con grande attesa, proprio perché consente di valorizzare l'attività motoria, sportiva nella scuola per tutti e l'incontro con Pape è andato molto bene, oltre ogni più rosea e aspettativa. È riuscito a coinvolgere i ragazzi, a raccontare la sua esperienza umana, professionale, sportiva e ci ha regalato anche un'esibizione della sua arte marziale che è stata veramente molto coinvolgente ed apprezzata. Tantissimi temi toccati dai vostri studenti, con particolare attenzione anche all'integrazione. Sì, Rivarolo è una scuola fortemente interculturale che fa dell'inclusione, uno dei suoi fiori all'occhiello, nel senso che noi non possiamo non essere a favore dell'inclusione, a favore dell'integrazione, proprio perché questa scuola accoglie il 40% di ragazzi stranieri e se non ci fosse una buona integrazione sarebbe difficile per tutti. Gli insegnanti lavorano molto bene in questa direzione, direi che i risultati sono molto positivi. Non abbiamo mai avuto, direi, problemi dal punto di vista dell'inclusione, da nessun punto di vista.